Sarà un novembre tutto musicale con Arezzo Classica, prende il via la stagione concertistica 2018-2019 dedicata alla musica sinfonica e da camera. Il cartellone voluto dal comune di Arezzo insieme alla fondazione Guido d'Arezzo e realizzato in collaborazione con la Casa della Musica propone sette spettacoli fino ad aprile che porteranno ad Arezzo alcuni dei più acclarati interpreti per un viaggio all'insegna delle emozioni. Siamo molto contenti della realizzazione di questo cartellone che vedrà appunto tra i vari appuntamenti i nomi della musica internazionale come gli archi di Santa Cecilia, i virtuosi della scala, maestri del calibro di Bruno Canino, Isabel Faust e Cristiano Rossi. Questa stagione l'abbiamo volutamente pensata e creata in collaborazione con la Casa della Musica di Arezzo e della scuola di musica di Fiesole e speriamo che sia e vinca anche dal manifesto che è una stagione declinata sugli archi quest'anno e protagonisti di quasi tutti gli appuntamenti ad eccezione della partecipazione col quartetto dono del maestro Canino e di Tiziano Mealli in duo. Quando cerchi di lavorare sull'eccellenza delle proposte poi va a finire che trovi i grandi maestri ormai affermati e i giovani musicisti che si stanno affermando e si ritrovano guarda caso nella stessa stagione. Tra l'altro proprio la stessa scuola di musica di Fiesole da questo punto di vista è il luogo di incrocio, di incontri per per sua natura essendo un luogo didattico in cui vengono a insegnare mostri sacri della musica e allo stesso tempo passano a perfezionarsi giovani musicisti che sono destinati a una grande carriera. Noi abbiamo fatto una politica in questa fase storica della fondazione proprio anche per promuovere appunto gli eventi che stiamo lanciando in questa fase di favorire quindi la facilità di accesso di tutti gli avventori possibili cittadini e non cittadini e i prezzi sono veramente concorrenziali tenendo conto quindi che la poltrona più nobile direi del teatro Petrarca ha un costo fisso di 30 euro.